Ciao, bentornato oggi sul canale Spettacoli Televisivi, con notizie come Sonia Bruganelli è rimasta a dir poco sconcertata quando si è resa consapevole di certe affermazioni sul suo conto Un ritorno spumeggiante quello di Sonia al grande fratello Vip come opinionista che, proprio durante l'inizio della prima puntata, ha fatto il suo ingresso tra gli scroscianti applausi del pubblico E subito dopo, ha manifestato molta goliardia e voglia di scherzare con la sua collega Oretta Berti, smentendo così i rumors dei mesi precedenti che le consideravano già Inoltre, in quei primi minuti di diretta, la moglie di Paolo Bonolis ha voluto salutare caramente Adriana Volpe, ex opinionista della precedente edizione Ma, colpo di scena, quest'ultima ha fatto una breve comparsa, proprio durante la puntata di giovedì, al fine di salutare il suo amico, Giovanni nella casa e cogliendo così l'occasione di varcare lo studio, raggiante L'espressione sul volto di Sonia non ha lasciato dubbi a interpretazioni Infatti, rivedere la sua cerrima nemica le ha fatto un certo effetto per quanto le sia al contempo mancata, come lei stessa ha asserito In breve, ciò rappresenta il trionfale rientro della Bruganelli che, in questi istanti, si trova costretta a dover fronteggiare una questione molto spinosa con una grande VIP Sonia Bruganelli, che brusco risveglio.Non è la prima volta che la splendida donna, dagli occhi azzurro cielo, manifesti punti di vista di vista radicalmente discordanti con il pubblico in studio o i medesimi coinquilini Un esempio evidente lo si potrebbe estrapolare proprio dall'edizione dell'anno scorso citato, inerente al triangolo amoroso Alex, Soleil ed Elia Ebbene. Oggi un'altra situazione sta attirando l'attenzione dei media, dei telespettatori nonché degli studi di Cinecittà E, ancora una volta, è la stessa Sonia, tra gli altri, a esprimere il proprio punto di vista, andando così contro a una vippona Ecco cos'è successo.Una coinquilina spara a zero su di lei.L' argomento della discordia è già Elia nonché il suo matrimonio, a seguito delle dichiarazioni di quest'ultima in cui ha declamato apertamente il concetto dell'amore libero, di cui il pubblico ha già sentito parlare Nessuna delle coinquiline crede davvero che lei sia innamorata di suo marito e chi veramente ne è convinta è proprio Carolina Marconi che ha sentenziato così, l'amore è altro Durante la diretta però, ha avuto un duro scontro con Sonia che ha preso le difese della donna, affermando che non devi dare nessuna giustificazione poiché trattasi di una concezione di coppia semplicemente differente La splendida venezuelana, ha cercato di spiegarle alcuni dettagli, facendolo intendere di essere al corrente di qualcosa che lei non sa Il giorno dopo, si è sfogata con Pamela Prati, commentando l'accaduto del giorno prima, hai visto come Sonia mi ha attaccata? Non esiste Non mi è proprio piaciuta, è stata fuori luogo, proseguendo così, se lei mi ha attaccato è perché non sapeva tutto Cioè che Gele mi ha detto che è lei a volere l'amore libero e non il marito Lei lo costringe a fare questa cosa di coppia, concludendo, se io parlo è perché so delle cose che Sonia non sa, tutto qui Grazie per aver guardato l'intero video. La notizia è qui per finire, mettete mi piace e commentate, in particolare cliccate iscriviti al canale, per ricevere le ultime notizie Ciao e ci vediamo nei prossimi video Grazie per aver guardato il video Grazie per aver guardato il video Grazie per aver guardato il video